la ragazza qui sotto la loggio del municipio che si chiama valeria che ha perso di vista la sorella, la sorella si chiama Tiziana, chiedo Tiziana se può raggiungermi sotto la loggio del municipio perché valeria è particolarmente preoccupata, la teniamo qui noi in sicurezza ma Tiziana se mi stai ascoltando raggiungi la loggio del municipio, grazie allora ripeto, sto cercando una ragazza che si chiama Tiziana perché la sorella valeria, la persa di vista è qui sotto la loggio un po' preoccupata ma adesso noi, doni e le minori favore, ritroveremo il municipio, grazie allora stai tranquilla che arriva tutto il municipio arriva in giro del municipio, ciao ma a Volkswagen, normal, c'è caldo com'è qua, c'è caldo con questo sono le aiutate, sono le aiutate, sono i miei fampi, sono i miei caldo, sono i zegrani e sono indifese, ma c'è un'eccezione Grazie a tutti. Grazie a tutti.